La novità era già stata anticipata lunedì scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Volley sotto il Mucrone. L'evento, che porterà in città quattro grandi squadre della Superlega italiana di pallavolo maschile, con il loro carico di scudetti, Champions League e ben sette dei neocampioni del mondo azzurri, è uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno a Biella. L'amministrazione comunale non poteva lasciarsi scappare l'occasione. Le serate, riuscitissime, di campioni sotto le stelle sono diventate ormai una consuetudine piacevole. Quindi perché non organizzarne una doc, proprio in vista del weekend che porterà il forum dei campioni in carica. Ci proveremo, cercheremo di allestire qualcosa per venerdì 23, aveva detto il vice sindaco e assessore allo sport, Moscarola, proprio all'indomani della vittoria della nazionale italiana nella finale di Katowice, contro i padroni di casa polacchi. E così è stato. La due giorni del forum, sabato 24 e domenica 25, avrà il suo aperitivo speciale nella serata di venerdì. I sette campioni del mondo, Fabio Balaso, Simone Anzani e Mattia Bottolo, di Civitanova, Alessandro Micheletto, Riccardo Sbertoli e Daniele Lavia, di Trento, Gianluca Galassi, di Monza, sono attesi a Cittastudi per questo appuntamento speciale. Il format è quello solito. Il giornalista Alessandro Alciato condurrà la serata con interviste, curiosità, aneddoti sull'impresa ai mondiali di Polonia e Slovenia, vinti per la quarta volta dalla nostra nazionale. La serata inizierà alle 21, come anticipato, all'interno dell'auditorium di Cittastudi in Via Pella. L'ingresso è gratuito. Per prenotare una poltroncina si può accedere sulla pagina dedicata della piattaforma Eventbrite.